Maurizio Carrara, Presidente di Unicredit Foundation. Siamo arrivati a selezionare due di questi progetti, tra i sei che erano entrati in competizione a Napoli, una competizione che abbiamo fatto per idee nell'ottobre del 2011. Finanziamo questi due progetti perché sono stati quelli che hanno poi costruito un progetto concreto, completo di business plan e quindi che hanno manifestato l'opportunità di diventare parte attiva e continuativa dell'attività progettuale nostra a Napoli.